Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone di Giallorosso e quest'oggi siamo tornati in una nuova edizione della segna stampa. Cominciamo subito. Iturbe andrà sicuramente in prezio al San Lorenzo, come ha affermato anche dai dirigenti del club argentino. Golanoni invece ha firmato un contratto quadrennale con la Roma. Totti, secondo Di Francesco, lavorerà sicuramente come dirigente. Di Francesco ha anche affermato che l'allenatore è lui, quindi le scelte le prenderà quasi tutte lui. Potrebbe riapodirsi la trattativa tra Manolas e lo Zenit di San Pietroburgo. Borca Valero si sfoga con la Fiorentina e ha affermato anche che è stato costretto ad andarsene. Ora i dirigenti e Viola passeranno alle vie legali. Lukaku andrà al Chelsea per 100 milioni. Conte ha detto che con quei soldi avrebbe voluto prendersi Belotti. Neymar, in caso lasciasse Barcellona, andrebbe sicuramente al Manchester United, che è disposto a pagare la clausola di 200 milioni. Il PSG tratta per Coutinho del Liverpool, ma il club parigino potrebbe indebolirsi. Infatti, dopo l'addio di Verratti, potrebbero arrivare quelli di Aurier e Krikoviak. Il Manchester United chiede Morata al Real Madrid e nella trattativa potrebbe inserirsi anche De Gea, che vorrebbe andare in Spagna con i Blancos. Banega è ufficialmente un nuovo giocatore del Sevilla. L'Arsenal prepara un colpaccio, 70 milioni allo sport in Grisbona, per Carvalho e Martins. Rizzoli, invece, si ritira e da quest'anno che verrà sarà il nuovo designatore della Serie A Arbitri e prenderà il posto di Messina. Queste erano le notizie del giorno. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Ciao a tutti!